Ancora una volta la sorella minore dell'influencer milanese finisce al centro di polemiche, stavolta a causa di una frase da lei pronunciata al GF VIP Party. Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del GF VIP, sta vivendo una bellissima storia d'amore con il ballerino Tommaso Stanzani. I due, innamoratissimi, stanno insieme ormai da diversi mesi. A quanto pare si sarebbero incontrati ad «amici» con lo zampino di Maria De Filippi. Oggi la loro tranquilla storia d'amore è balzata al centro delle polemiche a causa di una frase pronunciata dalla sorella dell'influencer 26enne, Gaia Zorzi. La ragazza, laureata in studi europei, fa la giornalista. Il grande pubblico la conosce per essere spesso intervenuta a supporto del fratello durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia. Da settembre 2021 Gaia conduce GF VIP Party insieme a Giulia Salemi, in onda su Mediaset Infinity. Le due ragazze si occupano di commentare i fatti che accadono all'interno del reality, con diversi ospiti. L'episodio di ieri, 25 ottobre, ha coinvolto proprio Zorzi e Stanzani. Nel presentarli, Gaia ha parlato di Stanzani come suo cognato temporaneo, scatenando una grande polemica sui social. Gaia è stata accusata di essere stata estremamente scortese nei confronti del ballerino. Oggi, stufa degli attacchi, la giovane ha deciso di rispondere alle critiche su Twitter. Innanzitutto, Gaia ha specificato di aver parlato così di Stanzani per scaramanzia, e che è convinta che lui sia un partner perfetto per suo fratello. La giovane si è rivolta ai cosiddetti, leoni da tastiera, che si attaccano a qualunque cosa pur di generare polemiche, secondo lei assolutamente sterili. Grazie a tutti. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. La giovane si è rivolta ai cosiddetti, la giovane si è rivolta ai cosiddetti,